Musica Ma de noi mai raffidato al suo legale una memoria in cui ha espresso i timori per la propria incolumità. Nel documento si legge, ho paura che mio fratello Benno faccia del male anche a me. Il documento è stato presentato ieri durante l'udienza del Tribunale del Riesame che deciderà sulla continuazione o la sospensione della misura cautelare per Benno Neumeyer accusato di aver ucciso i genitori Peter e Laure e di averne occultato i corpi. La decisione terrà conto del rischio che l'indagato possa uccidere di nuovo.